Nessuna convocazione per un eventuale ascolto avrebbe raggiunto, al momento, l'avvocato leccese Andrea Starace. Il giovane legale, indicato da Masiello come colui che avrebbe accompagnato quel 22 agosto del 2011 l'imprenditore leccese Carlo IV all'hotel Tiziano per consegnare i primi 50.000 dei 230.000 euro che sarebbero stati sborsati per truccare il derby del maggio scorso. Solo l'ex difensore del Bari lo avrebbe riconosciuto, mentre davanti al PM Ciro Angelillis, Gianni Carella, presunto complice di Masiello, avrebbe escluso di conoscere Starace. Il legale potrebbe essere convocato a breve dai carabinieri di Bari per essere ascoltato nell'ambito dell'inchiesta sul calcio scommesse che sta facendo tremare diverse squadre di Serie A e Serie B. Intanto, ieri è saltato l'interrogatorio di Carlo IV, revocato dal PM quando ha appreso la notizia che l'imprenditore leccese, che pure aveva chiesto di essere ascoltato, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Una strategia difensiva, da quello che si sa, per ottenere al termine dell'audizione l'accesso a tutti gli atti. Faccia a faccia solo rinviato, insomma, mentre per quanto riguarda la giustizia sportiva, si è tenuto ieri l'interrogatorio di Daniele Corvia davanti alla Procura federale. Ho chiarito tutto, ha detto l'attaccante del Lecce, sono tranquillo. Lunedì sarà la volta dell'ex portiere giallorosso Antonio Rosati.